Salve a tutti signori e anche da parte di Miguel che non mi lascia stare mentre faccio i video Sono qui per ringraziarvi, siamo arrivati oggi a 4000 iscritti 4000, 4000 iscritti, io non ci posso credere perché è successo molto velocemente Praticamente ci ho messo un anno e mezzo per arrivare a 1000 iscritti sul canale youtube E solo nell'ultimo mese siete arrivati in 500 E vedo che comunque secondo le analytics continua a crescere quindi è una figata atomica Io sono super contento e ne profitto anche soprattutto per ringraziare gli abbonati Ho abbonati addirittura da un anno questa parte che quando anche non portavo quasi nulla Erano già disposti a darmi una piccola somma di denaro tutti i mesi per vedermi crescere Quindi io sono alle stelle per questa cosa In più qualche lavoro è entrato, adesso a breve ne parlerò Parlerò sul canale quando avrò il via libera di qualche lavoro su commissione un po' più importante del solito Quindi magari una saga fantasy, un qualche libro di cui non parlerò in questo momento perché Perché no, è ancora presto A prescindere questo è un video solo e unicamente per ringraziarvi Vi voglio un sacco di bene e niente Continuate a seguirmi, parlatene con vostri amici, parenti, cani, gatti, con chi volete E vedete di... ah scusa se mi stavo coprendo Michelino E niente Mi raccomando quando passate sul mio canale se ci passate mettete mi piace, commentate Iscrivetevi al canale che è gratis, è solo un clicchino E niente Un bacione, vi voglio un bene incredibile Ciao, ciao a tutti